Musica Protesta degli alluvionati, presidio e volantinaggio sulla statale che collega Metaponto a Matera. Bentrovati in primo piano nel nostro telegiornale ancora la protesta degli agricoltori che hanno subito danni in seguito all'alluvione del 7 ottobre scorso. Oggi assemblea a Serra Marina di Bernalda con volantinaggio sulla provinciale 175 che collega Metaponto a Matera. Sul posto in diretta per noi c'è Luigi Di Lauro. Luigi allora che cosa è successo oggi? Sì eccoci qui Antonio, buon pomeriggio anche da Serra Marina. Come dicevi tu una giornata di protesta da parte del comitato Difendiamo le terre Ioni che possono già partire le immagini che si riferiscono a quanto accaduto qui in mattinata. Un'assemblea convocata per riferire degli incontri con i parlamentari lucani e pugliesi di ieri a Roma ma soprattutto per decidere come muoversi nei prossimi giorni. Un volantinaggio è stato organizzato sulla 175, la strada che collega Metaponto a Matera proprio per far conoscere anche ai tanti viaggiatori di passaggio quello che qui sta accadendo ormai da due anni. E allora Gianni Fabris che è il coordinatore di questo comitato, intanto due parole su quanto è accaduto ieri a Roma. Ma abbiamo sollecitati parlamentari, ne abbiamo trovati diversi, abbiamo posto loro la necessità di ricostruire il clima con cui abbiamo potuto lavorare due anni fa quando ahimè alla fine di dieci lunghi mesi di lotta e mobilitazione portiamo a casa primi in Italia l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Serve di nuovo l'unità, serve l'unità dei cittadini lucani e pugliesi ma serve anche l'unità delle istituzioni. Ai parlamentari abbiamo posto le questioni concrete e abbiamo chiesto il massimo dell'impegno. Impegno massimo da parte dei parlamentari ma anche una vostra richiesta di interlocuzione diretta del Governo e per domani si apre un primo spiraglio. Sì, al Governo noi diciamo subito che non ha motivi per non emettere l'ordinanza necessaria a poter procedere. I dieci mesi passati la volta scorsa sono stati imputati a una legge sciagurata, voluta peraltro dai leghisti di quel tempo che imponeva alle regioni di mettere prima i soldi. Oggi quella legge è stata dichiarata incostituzionale, come molti hanno sostenuto insieme a noi. Non c'è motivo per non emettere entro 15 giorni l'ordinanza. Al Governo diciamo non solo che serve immediatamente l'ordinanza che permette misure straordinarie ma che dentro ci devono essere soldi veri, non partite di giro sulla carta. Soldi che devono andare prima di tutto a salvare le attività economiche, non solo agricole, agricole artigianali, commerciali e così via e quelle delle famiglie ormai al tracollo. Concetti che ribadirete domani nel corso di un incontro in prefettura Matera con il sottosegretario dell'agricoltura Castiglione, il prefetto della provincia di Matera Luigi Pizzi. Ma voi minacciate anche un altro tipo di protesta in occasione delle elezioni regionali che sono ormai a un passo? Sì, noi abbiamo lanciato una protesta che pensiamo forte ma un atto molto concreto. Da oggi il Comitato raccoglie i certificati elettorali delle persone colpite dall'alluvione e dalla crisi agricola in questo territorio. Se la politica vorrà fare la campagna elettorale in Basilicata come in Puglia dovrà smettere di fare passarelle e dovrà dare risposte concrete. Noi siamo molto determinati, non abbiamo interesse a fare demagogia. Abbiamo interesse di ribadire sul fatto che noi siamo cittadini e realtà sociali ed economiche le istituzioni facciano la loro parte. Il presidio di Serra Marina resta attivo ovviamente anche nei prossimi giorni. L'attenzione domani si sposta sulla città di Matera dove ci sarà appunto questo incontro con il sottosegretario Castiglione. Da Serra Marina è tutto, io ti restituisco la linea Antonio. Grazie, grazie a Luigi Di Lauro, ai suoi ospiti e ai colleghi dell'Esterne.